Mi scuso con le famiglie, è tutta colpa mia. È già stata inviata la lettera che mette a disposizione o la data del 22 o quella del 30 gennaio per l'incontro. E' a questo il mia culpa dell'assessore Lucia Tanti che non si è presentata alla riunione online con i rappresentanti di mensa degli istituti comprensivi statali e delle scuole comunali della città. Lucia Tanti aggiunge, per sbaglio non ho calendarizzato, mi scusa ancora ma con una media di oltre 1000 appuntamenti l'anno è la seconda volta dal 2015 che mi succede. Il tema relativo alle menze scolastiche è finito al centro della polemica sollevata da Sara Chierici, responsabile infanzia del Partito Democratico di Arezzo. Evidentemente, ha dichiarato, l'assessore Tanti non ha cuore i ragazzi e avalla un servizio sempre peggiore senza alcun controllo. Quella porzione di pizze e quel po' di perza ha un costo di 6 euro, spiega Chierici. La richiesta che facciamo è che il menu sia perlomeno decoroso. La menza non è solo un refettorio ma anche un momento educativo e sociale. A prendere posizione poi anche i consiglieri comunali Marco Donati e Valentina Sileno di Scelguarezzo. Il tema delle menze scolastiche, hanno detto, è molto delicato e giustamente sentito dalle famiglie. Per questo chiediamo alla Giunta di mettere decisamente più impegno. Il servizio è affidato a Delior che dal settembre 2023 si è giudicato la gestione per i prossimi 4 anni più 2 per un importo di poco superiore ai 12 milioni di euro.